e voi avete sul vostro tavolo avete tre alimenti diversi e sicuramente abbiamo detto che in due dovrete provare l'amido, in uno no. Adesso io passo con la tintura di iodio e ne metto un pochettino e vediamo come si colorano questi alimenti e poi fate la scheda, va bene? Si dovrebbero cambiare colore Eccolo, guardate come si vede bene qua, guardate che roba Poi si vede benissimo, sul riso molto meno Poco però, guardate sul pane che roba Ok Guardate sul pane come cambia completamente E' nero E' nero Leonardo guarda, guardate sul pane come diventa nero Guardate Guardate sul sale che rimane uguale e sul riso non riesce a metterlo in evidenza più di tanto Guardate il pane, guardate il pane Ale facciamolo vedere Guardate il pane, guardate il pane, guardate il pane Guardate il pane, guardate il pane, guardate il pane Guardate il pane, guardate il pane, guardate il pane Guardate il pane, guardate il pane, guardate il pane Guardate il pane, guardate il pane